Via dal primo dicembre alla terza dose anche per la fascia d'età, dai 40 ai 60 anni. Ad annunciarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, la campagna di somministrazione della cosiddetta dose booster, che prolunga la protezione dal Covid, è già in corso per gli over 60 e per le persone fragili che possono pernotarsi sul sito o via telefono per l'iniezione negli hub vaccinali oppure vaccinarsi presso alcune farmacie. L'obiettivo del governo è accelerare anche per le altre fasce d'età. Chiama ad aderire al secondo richiamo anche il presidente della regione, Attilio Fontana. Invito i cittadini che già ne hanno o a breve ne avranno diritto a prenotare la terza dose del vaccino e mi riferisco in particolare a chi ha ricevuto il richiamo sei mesi fa e potrà quindi ricevere la terza dose iscrivendosi sulle piattaforme digitali. Lo dicono gli scienziati, spiega Fontana. La terza dose è il completamento della fase vaccinale e quindi il mezzo attraverso cui si ottiene una copertura immunitaria che dovrebbe durare anni. All'Ecco sono circa 16.000 le terze dosi già effettuate. Per ora le iniezioni proseguiranno nel lab vaccinale del Palataurus, che resterà aperto almeno fino a fine anno. Ancora da capire cosa succederà nel 2022, se la convenzione sarà rinnovata o se le vaccinazioni saranno ospitate altrove, magari presso lo stesso ospedale.